Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con la guida al platino di Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Nel video scorso abbiamo iniziato l'universo del drago con Piccolo e abbiamo finito la saga dei Saiyan. In questo video cominceremo la saga di Namek. Continuiamo la partita. Grazie a tutti. 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 subito l'abilità. Ah, magari tolgo questo. Per adesso aspetto a metterne altre. E poi su questo pianeta ci sono due sfere del drago da raccogliere. Quindi vado subito alla ricerca delle sfere. Facciamo il solito giro. Qui dovrei fare molto più in fretta rispetto alla saga precedente. Forse c'è già la prima sfera, sì. E una. Ah, qui c'era qualcosa, ma... Ah no, al punto di lotta. Ecco, qua c'è qualcosa. E un'abilità. Un'abilità oggetto. Sistema di barriera di Gero. Danno negli attacchi di aura nullo per 30 secondi dopo aver attivato l'abilità. Però occupa quattro spazi. Non penso che lo equipaggerò adesso. Andiamo pure avanti. E un'abilità. Grazie a tutti. Va bene, possiamo procedere Ah, qua ci sono due cose Allora, villaggio Qui c'è un evento, forse Poi ho visto la sfera Buono Abbiamo fatto due livelli così Io li metto qui Aumento queste due caratteristiche per adesso Poi c'era anche la sfera, eccola lì Bene, questa era l'ultima sfera Che potevamo trovare sul pianeta Namek Per adesso abbiamo finito Quindi finisco ancora il giro Qua forse c'è un oggetto Ah, era un dialogo Ah sì, è nella casa del capo Anziano, adesso lo vediamo Ah, è una casa del capo E' quello che ha detto, Namec. Ma se non si chiuderebbe da due parti, tu non avessi mai morto. Cosa stai dicendo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi devo raccogliere il... vi faccio vedere dove trovare il radar del drago. Si dovrebbe trovare più o meno vicino alla casa del capo anziano. Più o meno da queste parti. Ah, eccolo là. Eccolo qui. Bene, allora direi che ho fatto tutto, perché le due sfere, che era la cosa più importante da fare, le ho raccolte. Ho raccolto già un po' di livelli e ho raccolto un'abilità. Controllo solo velocissimamente qua, però l'ho presa prima l'abilità. No, perché non vorrei che mi fosse sfuggito qualcosa, però non credo. Possiamo andare avanti. Aggiungo solo magari un po' di abilità utili. Beh, a me piace questa, però c'è anche questa, che forse non l'ho ancora usata. E aumentiamo la difesa. Mettiamo questa, che è la sua uniforme. Va bene. Possiamo andare ad affrontare Freezer. P-Piccolo-san! Mataseta. Grazie a tutti. Ci siamo, Freezer? Ho finito di fare il criminale. Aspetta... Ah, ma fregato. Stavo per trasformare. Toh. Ho fregato io adesso. Criminale. Vediamo un po' se gli riesco a fare anche a lui il canone dell'anima speciale. No! Maledetto. Me la paghi. Sei finito. Toh. Ottimo. Aumentiamo l'aura. Maledetto. Maledetto. Bene, allora possiamo sfidare nuovamente Freezer. Guarda un attimo di nuovo le abilità, però, sì, questa cos'è che facevo, eh già. Ma sì, direi che vanno bene. Possiamo andare. Ma sì, direi. Ma sì, direi. E' finita per te Freezer. Adesso li trasformo subito. Tieni. E si è difeso subito. Questa me la paghi. Eh, già è furbo. Facciamo così, va bene lo stesso. No, se riesco gli voglio fare il Makanko Zappo. Se me lo permette. Buono. 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 Bene, abbiamo fatto un altro livello. Aumentiamo l'attacco. Buono. 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 arrive. Buono. 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 Quindi vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Dragon Ball Z Budokai 3. Alla prossima, ciao a tutti! Grazie a tutti!